Finalmente arriva anche in indicola la collezione di action figure di Naruto, andiamo a vedere da cosa è composta questa prima uscita. Collezione ai personaggi della saga di Naruto Shippuden, speciale prima uscita a solo 1,99€, un buon prezzo per la prima uscita. Poi abbiamo il fascicolo e l'action figure di Naruto, qui fanno vedere le prossime uscite, nella seconda c'è Sakura a 4,99€. Questo è il fascicolo, andiamo a sfogliarlo. Poi abbiamo altre carte. Le promozioni. E qui c'è il poster. Guardate che bel poster. Molto grande. E anche molto bello. E adesso andiamo ad analizzare l'action figure di Naruto. E' composta dalla statuina e la base. 10 cm. Un buon acquisto. Naruto era l'unico dei Big 3 che ancora non era uscito in Italia. Come potete vedere è molto più grande degli altri. Senza dubbio è un buon acquisto. Ve lo consiglio. Noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao! 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 Ciao!